Il sistema dei colori delle regioni, il sistema del tracciamento sono cose che appartengono al passato. Così il presidente della regione Liguria, Giovanni Totti, topò la riunione con gli altri presidenti di regioni a Roma, nel corso della quale si è discusso delle semplificazioni da chiedere al governo. Le regioni chiedono modifiche che riguardano la scuola. I sintomatici per Covid stanno a casa, tutti gli altri continuano con la loro vita, specie se vaccinati. Rispetto al PNRR la richiesta è ripensare i contratti della medicina del territorio ed aprire il numero chiuso delle università di medicina per programmare nuove assunzioni.